Lucia Volpe è il nuovo prefetto di Prato, il nono da quando è stata istituita la provincia. Lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri. Volpe, 58 anni, prende il posto di Rosalba Scialla, che dopo tre anni e mezzo lascia la città con destinazione la prefettura di Pavia. Un'altra donna, la quinta consecutiva, è chiamata dunque a guidare l'ufficio territoriale del governo di Prato. Dal 2005 in avanti il vertice della prefettura pratesa è stato infatti affidato a Eleonora Maffei, Maria Guia Federico, Maria Laura Simonetti e Rosalba Scialla. Lucia Volpe è nata a Napoli, è laureata in giurisprudenza ed è al Ministero dell'Interno dal 1990. Vari ruoli ricoperti nel tempo, tra cui quello di vicario del prefetto di Roma, l'ultimo incarico prima dell'assegnazione a Prato, è stato di rappresentante del governo per la regione Sardegna.